Francesca, grazie per essere con noi intanto. Buon pomeriggio a tutti qua. Che giornata è effettivamente? La sintesi qual è? È una giornata storica perché questo caso, questa inchiesta, è in assoluto un unicum giudiziario della storia giudiziaria del nostro Paese, dove per la prima volta, per il reato di epidemia colposa e omicidio colposo, si mettono sotto indagine i massimi vertici istituzionali del nostro Paese. Parliamo di vertici politici, di vertici sanitari e scientifici. Mi hanno colpito molto le parole del procuratore capo, il dottor Chiappani, sul fatto che questa storia comunque finisca, qualunque sia l'epilogo, dovrà essere una grande occasione di riflessione, di riflessione politica, anche sulle politiche sanitarie messe in campo e su quanta attenzione è stata posta fino ad oggi proprio all'allocamento di risorse sulla sanità pubblica. Quanto è importante la prevenzione e la sanità pubblica? Stiamo leggendo tutti quanti in questi momenti le carte, quindi l'avviso di chiusura a indagini, ed emerge in maniera nitida come non solo ci sia stata una catena di errori, di sottovalutazione del rischio, di grandi omissioni, ma come non siano state messe in campo misure sanitarie per la tutela della salute pubblica. Parliamo di misure di prevenzione, di misure basilari e sappiamo quanto in questi anni si sia definanziato proprio questo ganglo fondamentale che poi in momenti di emergenza porta a galla veramente tutte le inefficienze e anche gli errori anche di politiche sanitarie assolutamente miopi. Io credo che questa sia una grande lezione ed è una giornata storica al di là poi di quello che succederà. Ancora dovranno poi esprimersi dei giudici, capire se ci saranno poi rinvii a giudizio, se alcuni indagati verranno prosciolti, se ci saranno archiviazioni. Però al di là di questo io credo che leggere la mole immensa, le migliaia di pagine che sono state raccolte, scritte, è stata veramente riscritta la storia del focolaio di Bergamo, riscritta anche la storia di un pezzo di politica sanitaria del nostro paese che non è afferente soltanto al periodo della pandemia, ma che va indietro negli anni, guardando al futuro, cioè capire gli errori per non ricommetterli. Perché ovviamente in questa catena di errori ci sono dentro tutti, infatti non stupisce il fatto che sia l'ex Premier Conte che il Presidente della Regione Lombardia Fontana siano accusati non solo di epidemia colposa aggravata, di omicidio colposo, ma che sia stato certificato sulla base della documentazione che entrambi avrebbero potuto e avrebbero dovuto applicare la zona rossa. C'è stato uno scarico di responsabilità, a mio avviso, vergognoso in quelle settimane e io credo che oggi, anche solo leggendo le prime documentazioni e quindi gli atti che sono stati portati a nostra conoscenza, siano arrivate delle risposte importanti. E la politica deve ascoltare questo campanello dall'altro. Sicuramente, per non ripetere eventuali errori fatti, noi siamo costretti ancora nel 2023 addirittura a parlare degli 007 americani che negli ultimi giorni dicono no, probabilmente, quasi sicuramente, insomma, questo virus è uscito in maniera così accidentale dai laboratori di Wuhan, insomma, la Cina che non ci ha avvertito assolutamente in tempo di questo pericolo. Diciamo, c'è un concorso di colpa molto molto grave che arriva a livello internazionale perché Francesco faceva riferimento all'OMS, insomma, la Cina di fatto non ci ha assolutamente aiutato da questo punto di vista. Sì, io la considero, la chiamo, diciamo, banalmente un'arma di distrazione di massa perché ai fini anche di questa storia, di questa inchiesta, poco cambia se sia stato un virus prodotto in laboratorio oppure un virus reale nato in natura. Io credo che al di là di tutto questo, quello che questa storia ci consegna, la grande elezione, è che non è stata messa la salute al primo posto, nonostante i proclami della politica sia nazionale che regionale, soprattutto ce lo racconta la Valseriana, cioè, perché la storia della Valseriana e il focolaio di Bergamo è una lezione che, ed è una storia che riguarda tutta Italia? Perché lì si è consumato il grande scontro tra economia e salute, il grande scontro, il grande dilemma, se tutelare la produzione o tutelare la salute degli individui. Lo ricordiamo, la Valseriana è considerata la culla industriale della Lombardia ed è qui, ed è questo che fa la differenza. Io infatti il primissimo articolo che scrissi all'inizio di marzo del 2020 su The Post Internazionale raccontava proprio questo, perché probabilmente molti italiani non lo sapevano, sentivano parlare di Codogno dove era stata creata una zona rossa, perché a distanza di 48 ore non è stata creata anche in Valseriana, dove c'erano addirittura più casi Covid già diagnosticati, perché Codogno non è la Valseriana. In Valseriana ci sono migliaia di fabbriche e la produzione di fatto non è mai stata bloccata. Noi abbiamo appena pubblicato su Quotidiano Domani i primi verbali della deposizione del Presidente Fontana, incrociati con i verbali di alcuni dei maggiori industriali della Valseriana, tra cui anche il capo degli industriali Lombardi ai tempi, Marco Bonometti, dove ovviamente risulta evidente che la preoccupazione era salvaguardare la produttività e le fabbriche, ma questo è anche legittimo dal punto di vista di chi fa impresa, diverso è dal punto di vista della politica. La politica di fatto, al riscontro dei fatti, non ha tutelato la salute. La cosa importante che vorrei dire è che io vado dicendo da anni e che oggi è stata certificata dalla Procura di Bergamo, ovviamente poi ci dovrà essere eventualmente un processo, quindi dei rinvii a giudizio, per cui siamo tutti garantisti fino alla fine, però quello che oggi viene certificato, e sono anche documenti esclusivi che abbiamo pubblicato in passato, la Regione sapeva già dal 28 febbraio che la situazione era fuori controllo, aveva i dati reali, non le proiezioni, sull'indice di trasmissione che era già oltre il 2, ciò nonostante Fontana ha mandato una mail a protezione civile il 28 febbraio chiedendo non una zona rossa, perché non c'è mai stata un'istanza formale di zona rossa, chiedendo di mantenere le misure blande del 23 febbraio, chiedendo di far restare la Lombardia in zona gialla, non solo, lo stesso Conte, a distanza di qualche giorno, quando è stato avvisato il 2 di marzo, anche questo è un verbale riservato che doveva rimanere riservato, che abbiamo pubblicato in esclusiva su Domani, dove abbiamo pubblicato tutta la ricostruzione, veniva avvisato dell'urgenza da Brusaferro, dell'urgenza di creare una zona rossa in Valseriana, e lui diceva che le zone rosse vanno usate con parsimonia, perché hanno un costo politico molto alto. Allora, questo ovviamente poi, assolutamente, sarà necessario, ovviamente, e probabilmente i protagonisti, abbiamo detto, rimaniamo sempre tutti garantisti, avranno la possibilità solamente di rispondere a quelle che sono le accuse che vengono mosse, anzi, nelle ultime ore. Intanto io ti ringrazio, ringrazio Francesca Nava, giornalista e scrittrice del Focolaio, che ci ha fatto sicuramente una eccezionale sintesi di quanto è accaduto, soprattutto in quelle giornate drammatiche. Francesca, grazie mille, sei stata molto preziosa, e quindi speriamo di ritrovarti, anche perché nelle prossime settimane, senza soli continueremo a parlare di questa inchiesta.